Noi per fortuna abbiamo avuto questo scalino qua grande, abbiamo chiuso la porta, con gli stracci siamo riusciti a contenere un pochettino l'acqua, però l'ombrellone, roba, un po' di danni sono evidenti, sono uguali. Le caditoie erano perfette, le fondatore funzionano, un evento fuori da ogni grazia di Dio, una cosa eccezionale, mai successa prima, solo quattro ore che persiste, un ubifragio caraibico, non è che possiamo far passare il po' nell'Adige. 166 mm a Rosolina e 189 a Chioggia in 24 ore, un vero e proprio ubifragio quello che è interessato lunedì pomeriggio il Polesine tra Porto Viro e l'isola di Albarella, la punta meridionale del litorale veneziano, con allagamenti di stabilimenti balneari, alberi abbattuti e strade trasformate in fiumi. Una situazione per la quale è già stato dichiarato dal Presidente del Veneto Luca Zai allo stato di emergenza regionale con segnalazione al Governo nazionale per la predisposizione di eventuali risarcimenti. Un'ondata di maltempo che si abbattuta sulle spiagge nel pieno della stagione turistica, 40 gli interventi dei vigili del fuoco, impegnato un centinaio di volontari della protezione civile che hanno lavorato per tutta la notte. Da eludere ancora alcune chiamate, ma la situazione in generale è tornata alla normalità. Particolarmente colpita è l'area artigianale di Porto Viro, la zona del campo sportivo Donada, in Borgo Mimose, tra le campagne di zona Mea. Anche a Rosolina Mare, altro centro danneggiato dal maltempo, la situazione va migliorando. Le attività hanno riaperto, le strade sono tornate transitabili. In maggiori criticità si evidenziano nell'entroterra, dove le piogge cadute rischiano di danneggiare pesantemente la semina del radicchio precoce. Le squadre vigili del fuoco sono state impegnate, come si diceva, tutta la notte per rimuovere gli alberi abbattuti, per i danni d'acqua e i diversi allagamenti. In supporto alle squadre locali sono arrivati sei operatori da Padova, Verona e Vicenza con le motopompe. Nell'arco delle tre ore a Chioggia sono state registrate precipitazioni piovose pari a 143 mm. Dato mai superato prima, il massimo era stato di 123 mm il 13 settembre 2008 e con tempo di ritorno stimato superiore ai 100 anni. A Rosolina nell'arco di tre ore sono stati registrati 129 mm, mentre dato superato solo una volta il 13 settembre 2008 con 147 mm. Tempo di ritorno stimato superiore ai 100 anni. Sono i dati storici comunicati dall'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottacine, che coordina l'unità di crisi della protezione civile del Veneto.